...finisci il temporale. Io so quella, ecco. Questa è carina. Per il nuvolista la vita è policromatica, asimetrica e polietrica. Bravo! Bravo, bravo, bene. Scopriamo il 3D, scopriamo il 3D. Adesso... Adesso il disco scorso. No, no, e adesso abbiamo un'installazione, la prima installazione nuvolista 3D. Prove... Ah, da 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 da! Eeeeeee!